Appalti truccati assegnati dalla pubblica amministrazione a professionisti mediante affidamenti diretti in cambio di soldi ma anche di consulenze private, promesse di posti di lavoro, auto, pranzi e cene costose. E' il sistema corruttivo messo in luce con un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. 14 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Tranese, 4 sono finite in carcere e 5 i domiciliari. Tra le misure anche un obbligo di dimora, 3 di vieti di contrarre con la pubblica amministrazione e un provvedimento di sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici. 17 in totale gli indagati, tra i quali figurano tre dirigenti dei comuni di Trani e Barletta e della provincia Batta. Le accuse sono a vario titolo di corruzione e turbata libertà degli incanti. L'inchiesta ha preso il via da una serie di accertamenti sulla discarica di rifiuti speciali non pericolosi Cobema di Canosa di Puglia, chiusa nel 2005. In base a quanto emerso, attraverso il diretto coinvolgimento del dirigente Batta, i lavori per le attività di post-gestione dell'impianto erano stati affidati dall'ente provinciale, con gara di evidenza pubblica, senza comunicare l'inizio dei lavori al comune di Canosa, oltre che all'amministratore giudiziario. L'affidamento dei lavori era stato inoltre preceduto da una serie di accertamenti ambientali eseguiti da un professionista, il quale ha versato parte dei compensi ricevuti dalla provincia all'impresa della moglie del dirigente che gli aveva affidato l'incarico. Una irregolarità che era solo la punta dell'iceberg di un sistema corruttivo ben più ampio sul quale hanno fatto luce gli investigatori, ricostruendo diversi episodi analoghi. Tra i casi più eclatanti, l'assegnazione di un appalto da parte dello stesso dirigente della sesta provincia ad un imprenditore salernitano, in cambio di 4.400 euro in contanti. E ancora, sempre il dirigente, nell'ambito della vendita dell'ex mattatoio di Terlizzi, avrebbe permesso ad un imprenditore andriese di aggiudicarsi l'immobile ad un prezzo decisamente più basso, circa 635 mila euro, rispetto al suo valore pari ad oltre 800 mila euro. Un favore ricompensato con la somma di 100 mila euro. Tra gli episodi contestati, anche quello di un imprenditore che avrebbe eseguito un'opera di ristrutturazione in casa di un dirigente, chiedendo in cambio l'affidamento di lavori da parte della provincia Batta. E ancora quello di un dirigente comunale di Trani, membro della commissione di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della discarica di Provecchio, che avrebbe ricevuto dall'imprenditore affidatario dell'appalto una Mercedes GLA 220 usata ad un prezzo simbolico di 1.500 euro. Tra le persone coinvolte nell'inchiesta figura anche un ingegnere collaudatore barlettano, che avrebbe attestato falsamente di avere effettuato il collaudo di un cavalcavia ferroviario nella provincia di Brindisi. L'uomo è poi risultato essere il professionista di riferimento di un imprenditore andriese incaricato di lavori allo stesso cavalcavia. Parallelamente alle misure cautelari, l'inchiesta ha portato al sequestro preventivo di beni nei confronti di 13 indagati, per un valore di oltre un milione di euro.